Il manager da invitare all'Università dell'Aquila per incontrare i nostri studenti e tenere un allestero magistrale sulla mobilità del futuro non poteva che essere l'ingegnere Bruno Mattucci. Ringrazio l'Ateneo per questa opportunità che mi ha dato. L'obiettivo di oggi è quello di darvi una visione di come un costruttore globale di autoveicoli, questo Nissan, sia lavorando per cambiare il modello di mobilità, rivoluzionando il soggetto principale che è proprio l'automobile. La strategia complessiva di sviluppo dei nostri prodotti l'abbiamo chiamata Nissan Intelligent Mobility. Oggi vi daremo l'opportunità di provare qualcosa che rappresenta nel mondo dell'auto il massimo a cui l'auto è arrivata. È una vettura quindi 100% elettrica, è una vettura che ha già a bordo molti dei sistemi che poi utilizzeremo in futuro per arrivare alla guida autonoma ed è una vettura soprattutto che ha la capacità di scambiare energia tra la batteria e il mondo esterno. Stasso accezione. Questo? Sì. Accesa. Ora acceda. Che spettacolo! Stavo preme l'acceleratore. Wow! Non si sente? Eh no. È fantastica! Wow! Bellissima la macchina, si guida benissimo. Fantastico! Stabile e soprattutto ha la sensazione di non avere più la vibrazione e non sentire più il rumore. È qualcosa che impressiona. Se siate curiosi mettete sempre in discussione lo stato suo. Con l'apertura mentale e la collaborazione. Non siate chiusi nel vostro fondo. Ascoltate. Ascoltate gli altri e lavorate insieme agli altri. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti